delitto anastasia revocata patria potestà al marito omicida otto lupi assaltano una fattoria di gradara alluvione e consorzio di bonifica interventi per 5 milioni di euro migliaia di studenti scaldano il gelo di kharkiv la candela della pace accende il natale nei quartieri di pesaro una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale rossini news notiziario di mercoledì 30 novembre che apriamo occupandoci di un importante sviluppo sulle femminicidio di anastasia alasceri 23enne ucraina uccisa dal marito afano lo scorso 13 novembre sviluppi che riguardano la custodia del piccolo adam bambino di due anni rimasto orfano di mamma uccisa dal padre ora in carcere a bologna con l'accusa di omicidio volontario il tribunale dei minori di ancona su richiesta della procura della repubblica di pesaro ha infatti ufficialmente revocato la patria potestà genitoriale del padre di adam ovvero di mustafa alasceri il tribunale ora sta avviando gli accertamenti sulle capacità genitoriali della nonna materna elina arrivata la scorsa settimana a fano dall'ucraina assieme ad aria sorella di anastasia e si valutano la possibilità dell'affido definitivo e del rientro delle piccolo adam in ucraina ed ora ci occupiamo di un fatto avvenuto questa mattina a granarola frazione delle comune di gradara dove un'azienda agricola è stata di fatto assaltata da un branco di lupi una residente è stata ferita e dal pronto soccorso di pesaro ha raccontato l'accaduto al nostro eduardo razzi il 30 novembre 2022 sarà una data che la famiglia mancini residente in viaghetto a granarola di gradara difficilmente dimenticherà erano le 8 e 30 di questa mattina quando un branco di otto lupi ha invaso minacciosamente l'azienda agricola di danilo mancini la cui moglie svetlana filipova uscendo dalla sua abitazione per aprire le gabbie dei suoi animali si è improvvisamente ritrovata 5 metri dagli affamati e pericolosi mammiferi sono uscita fuori di casa l'ho aperto il recinto di animali e dopo otto barra dieci minuti l'ho sentito un gran chiasso che tutti gli animali correvano verso di me verso il cinto perché dietro di loro c'erano otto lupi e niente l'ho cominciato a urlare i lupi sono andati via tanto spaventata la signora svetlana ma anche tanto coraggiosa visto che per allontanare il branco di lupi ha usato prontamente un badile che si trovava a pochi centimetri dalle gabbie degli animali della sua azienda c'era vicino un badile che ho preso nelle mani però si ha cominciato a urlare ha sentito il mio marito che era appena tornato che ha accompagnato la mia figlia a scuola è tornato e l'ha sentito le mie urla è uscito fuori di casa poi ha visto anche lui i lupi che già uscivano scavalcandoci la recensione della nostra casa e andandoci via per sempre ancora nella nostra azienda però già fuori dal recinto praticamente sono andati nella vigna e poi sono usciti nella strada sopra granarola sono andati verso sopra granarola la donna nonostante la vicinanza dal branco non è rimasta ferita ma una volta sventato il pericolo è stata immediata la chiamata ai sanitari del 118 che sono immediatamente intervenuti trasportandola al pronto soccorso gli accertamenti del caso non hanno evidenziato alcun trauma ma per la donna e per la sua famiglia nulla sarà più come prima però adesso c'è la paura prossimamente per i figli e per me cioè la paura rimane adesso non possiamo più vivere tranquilli adesso non possiamo stare più tranquilli neanche dentro casa cioè i figli che ce l'hanno 13 e 15 anni adesso devono stare rinchiuse dentro casa un pericolo che la donna aveva già fiutato i giorni scorsi quando tra le campagne di granarola aveva intravvisto a girarsi diversi lupi mai avrebbe però pensato che oltrepassassero la recinzione di casa sua ed ora quello che chiede lei ed altri residenti e che vengono presi i provvedimenti bisogna che adesso si provvedano di far qualcosa che noi dobbiamo vivere tranquillo a casa nostra dobbiamo stare tranquilli e anche per non solo per noi ma anche per i vicini le voci girano che sono stati già uccisi non sono le ocche anche i cani e i gatti sono stati uccisi da anni dai lupi che hanno visto anche i vicini di casa che i suoi animali sono stati portati via questa mattina sì sì sicuramente perché dopo io sono qui all'ospedale però già ho parlato con il mio marito lui ha detto sì sono stati portati via perché le piume c'erano dappertutto a due mesi e mezzo dall'alluvione che ha devastato cantiano senigallia e territori limitrofi le consorze di bonifica delle marche ha presentato oggi le piano di interventi di emergenza che sono stati effettuati così come ha illustrato i prossimi in agenda per contrastare il dissesto idrogeologico nel nostro territorio 89 interventi svolti in emergenza oltre 60 programmati per quasi 5 milioni di euro di investimento numeri che sono stati al centro dell'attività del consorzio di bonifica delle marche che oggi nel comune di pesaro ha presentato il report di un'azione trasversale fra tutela del territorio prevenzione al dissesto idrogeologico e ripristino delle idraulicità minori alla luce soprattutto dello straordinario impegno successivo all'alluvione di settembre sono 69 gli interventi che abbiamo segnalato all'interno del programma di mitigazione del rischio idraulico voluto dal commissario per l'alluvione per oltre 4 milioni di euro circa 5 milioni di euro speriamo come sembra che i finanziamenti siano repentini per cominciare subito a mettere in moto gli escavatori noi il giorno dopo l'alluvione eravamo già con nostre aziende sul territorio anche su quelli che non erano immediatamente presenti nelle tv faccio riferimento soprattutto alle aree montane perché cantiano sicuramente è stato un disastro ma un disastro è stato altrettanto in altri territori dell'alto pesarese abbiamo già speso oltre 700 mila euro per interventi di prima emergenza non è sicuro che tutti ci verranno rimborsati ma noi l'abbiamo fatto perché avevamo l'esigenza di dare un'immediata risposta alla presenza anche delle associazioni di categoria degli agricoltori cia e col diretti netti ha sottolineato il carattere eccezionale dell'alluvione di settembre ma anche la necessità di attrezzarsi ad eventi che saranno sempre meno rari l'alluvione è stata una cosa molto importante questo non lo dobbiamo dimenticare la relazione fatta dai servizi della protezione civile parla di una pioggia millenaria cioè qualcosa di incredibile 400 millimetri di pioggia in sette ore ricordiamoci che l'evento di casa micciola che purtroppo ha interessato di nuovo le cronache nazionali ha visto meno di un quarto un quarto di quella piovosità cioè 100 millimetri di pioggia 400 sono veramente qualcosa di incredibile ci dobbiamo attrezzare io leggo sempre con molto piacere alcune relazioni che i nostri tecnici hanno redatto 40 anni fa quando hanno realizzato le dighe dicendo che ci sarebbe stato un problema di siccità nel territorio oggi dobbiamo dire che assieme alla siccità dobbiamo registrare anche gli eventi catastrofici di piogge intense e molto spesso anche imprevedibili nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato il presidio sindacale davanti all'ospedale san salvatore di pesero da parte dei sindacati delle professioni sanitarie presidi che poi sono stati replicati a fano e urbino per quello che riguarda circa 200 posti di lavoro della sanità a fine contratto e a rischio conferma la protesta ora ha fornito un primo risultato con la regione marche che ha dato la possibilità all'azienda ospedaliera marche nord di prorogare i contratti in essere dal primo gennaio per altri quattro mesi una mini proroga che rappresenta un risultato che non soddisfa pieni sindacati che continuano a invocare la stabilizzazione di questo precariato e cambiamo argomento sono migliaia gli studenti del campus scolastico di pesero che si stanno mobilitando con piccole donazioni in denaro da recapitare in ucraina per aiutare la città di kharkiv ad affrontare il terribile inverno dell'est europa troppe volte il bene rischia di non fare rumore troppo facilmente una tragedia umanitaria qual è la guerra in ucraina rischia di non fare notizia con la stessa forza con cui impressionava nelle prime settimane del conflitto e invece la guerra entra ora nella fase più delicata quella dell'implacabile inverno dell'est europa e va in questa direzione la macchina della solidarietà che fra le scuole del campus di pesero sta facendo un piccolo grande gesto canalizzato su un luogo preciso quello della metropoli di kharkiv interventi mirati in cui ogni studente è stato coinvolto nel donare almeno un euro mobilitando anche i propri familiari in donazioni specificatamente indirizzate a riscaldare e confortare le famiglie della seconda città ucraina durante mesi invernali di streno resistenza un'iniziativa presentata oggi nell'aula magna del liceo mamiani con uno studente in rappresentanza di ogni classe coinvolta nella missione solidale coordinata dalla onlus gulliver per un campus che conta 5.000 studenti per altrettante donazioni come gulliver seguiremo sia dall'inizio la raccolta fondi nelle scuole di pesero il invio del denari a varsavia dove padre luca acquisterà tramite un accordo con la rao merlena delle stufe padane in legna la gulliver si occuperà poi del trasporto e della consegna alle famiglie quindi diciamo seguiremo concretamente dall'inizio alla fine tutta quanta la filiera di questa bellissima iniziativa il nostro intento è quello di portare ciò che studiamo a scuola e ciò che di cui si parla quotidianamente soprattutto in questo periodo storico nel concreto raccogliendo delle piccole somme coinvolgendo i ragazzi le famiglie i docenti perché questo un po l'importante no è questo che fa parte forse dell'educazione rendere concreto le parole che vengono espresse in classe anche in seguito a una raccolta fondi fatta già in precedenza abbiamo cercato di dare il nostro contributo nel nostro piccolo perché è importante essere uniti anche in queste situazioni anche se non riguardano in prima persona noi proprio per per far capire a tutti la nostra solidarietà e il nostro conforto nei confronti di tutti in questa situazione così devastante e tragica sicuramente vogliamo essere la generazione della speranza la generazione del cambiamento ma se noi questa generazione sta imparando così tanto ad aiutare il prossimo anche perché la generazione precedente ci sta aiutando ci sta insegnando questo queste iniziative partono dalle scuole perché le scuole sono il posto dove più di tutto si forge una persona e si forge al senso critico e la razionalità e soprattutto la solidarietà in collegamento da varsavia anche padre luca bovio coordinatore dell'opera don adriano vincenzi che coordina sul campo gli aiuti facendo la spola fra polonia e ucraina in verne lungo questa parte del nostro continente iniziato adesso si potrà almeno fino al mese di marzo a volte anche aprile con temperature molto basse per cui la prospettiva è medio lunga non è corta purtroppo ed è grazie a queste piccole azioni che poi la gente ha dei reali benefici quindi grazie per tutto quello che fate e sicuramente ce n'è tanto bisogno ecco del limite del possibile se si può questo messaggio così portare a più persone possibili in modo che anche il tema della guerra un tema terribile resti sempre un tema attuale agli orecchi di molti non ci dobbiamo mai abituare purtroppo a queste realtà così sofferenti il nostro invito forte a tutte quante le scuole della regione Marche da Ancona a Ascoli Piceno a Fabriano Iesi studenti docentevi partecipate a questa iniziativa perché è veramente forte l'inverno sta arrivando la solidarietà purtroppo tocca riscoprirla nella regione Marche perché siamo partiti molto forti durante l'inizio della guerra adesso siamo un po in difficoltà e dobbiamo riscoprire con forza la parola solidarietà da padre bovio al professor gerolamo spreafico dell'università cattolica è arrivato anche l'invito a organizzare per i ragazzi pesaresi un viaggio a Kharkiv per vedere di persona gli effetti della loro azione solidale sarebbe un'iniziativa stupenda perché si potrebbe vedere dal vivo ciò che i tg passano no anzi forse è il metodo migliore per rendersi conto effettivamente di quello che sta succedendo tanto che tutte queste notizie seppur utile informarci a volte un po c'estraniano anche e quindi essere vicino a queste cose ci fa capire il frutto del nostro lavoro e vedere con occhi concretamente ciò che sta succedendo e questo è fondamentale e restiamo in ambito di scuole pesaresi ancora coinvolte in progetti internazionali parliamo in questo caso del liceo bengaroni è coinvolto in un progetto di erasmus per quello che riguarda arte cultura e accessibilità la realizzazione del primo anno della prima fase del progetto erasmus plus art for all che è un progetto che guarda all'accessibilità del patrimonio culturale del proprio paese il progetto è in collaborazione con altri paesi europei con scuole partner della bulgaria del belgio e del portogallo abbiamo già visitato i loro paesi e loro stanno facendo quello che i ragazzi del liceo bengaroni stanno facendo sul territorio pesarese e cioè selezionare uno o più elementi del patrimonio culturale per innanzitutto nella prima fase studiarne l'accessibilità e da adesso in poi creare una serie di strumenti quali esempio di potenziamento dell'accessibilità e dell'inclusività del artefatto culturale scelto è una situazione che ci permette ora di avere una mappatura pensata proprio dagli studenti in base a tutti i vari tipi di accessibilità di cui secondo il loro punto di vista e secondo anche gli standard europei che hanno studiato necessitano i nostri musei particolarmente è stato fatto un lavoro sui musei civici con un focus sulla pala di bellini e sulla medusa di bengaroni che sono due degli elementi simbolo e ora diciamo pur anche riscontrando quanto già era stato fatto dal punto di vista dell'inclusione dei vari tipi di disabilità e c'è un percorso fattivo che stiamo seguendo assieme per poter migliorare sempre di più la pratica dell'accessibilità estendendola a tutti gli ambiti compreso anche l'inclusione economica e l'inclusione sociale. Noi siamo gli studenti del liceo artistico Mengaroni e facciamo parte del corso internazionale. Questo corso ci ha dato l'opportunità di fare molti viaggi e scoprire molte cose che non sapevamo. Questi viaggi li abbiamo potuti realizzare grazie a dei progetti Erasmus che sono molto validi per l'apprendimento di noi ragazzi. Ammontano a 893 mila euro i lavori di somma urgenza eseguiti sulle strade della provincia dopo l'alluvione dello scorso settembre. E quanto riferito dal direttore generale Marco Domenicucci della provincia durante il consiglio provinciale di oggi che ha approvato all'unanimità la variazione al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2022-2024. Le nuove frontiere del risparmio energetico negli edifici pubblici. Questo è il convegno che si terrà domani nella sede della provincia per affrontare un tema quanto mai attuale e pressante per gli enti pubblici. Si comincia alle 9.75 con tante personalità del settore che interverranno sul tema. Dai geometri Matteo Conti e Giuseppe Balzano agli ingegneri Marco Pigliacampo e Romualdo Montagna fino allo stesso direttore generale della provincia Marco Domenicucci. A pochi giorni dalla scomparsa dello stimato docente pesaresi di ecologia Massimo Pandolfi, volontari e scauta hanno osservato oggi un momento di raccoglimento prima di piantumare 80 piante a completamento dell'area in zona celletta che era stata progettata dallo stesso Pandolfi. Ha iniziato a scaldarsi anche la macchina organizzativa del Carnevale di Fano che oggi ha presentato il manifesto e l'idea comunicativa di questa edizione. Anche per il 2023 è stato confermato il progetto manifesto d'autore che vede l'immagine ufficiale del Carnevale realizzata da un artista del territorio. Quest'anno a disegnare il concept è stato l'illustratore e fumettista pesarese Alessandro Baronciani. E rimaniamo a Fano perché sabato è stato presentato il libro dal titolo 6, un progetto di medicina narrativa a scopo benefico a favore dei malati oncologici. 66 racconti in questo volume che ribadiscono come la cura del paziente debba passare anche attraverso il racconto e a una nuova idea di relazione, come ci spiega il servizio di Simone Celli. Sei parole, 66 pazienti oncologici e altrettanti scrittori. Numeri che solo in parte rendono l'idea di un progetto che con i numeri ha ben poco a che fare. 6 è anche il titolo di questo virtuosissimo esempio di medicina narrativa. Un libro scritto da un collettivo di autori che senza chiedere niente in cambio ha dato vita a 66 racconti in grado di restituire dignità, bellezza e speranza a chi sta lottando contro la malattia. Storie di vita e di persone che sono tutt'altro che numeri. Abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo chiesto a 66 pazienti di donare 6 parole, un nome proprio e 5 nomi comuni. E poi abbiamo donato queste parole a 66 scrittori che hanno già esperienze di scrittura insieme sotto l'acronimo di Scrivi per Bene e ne ha nato un libro di 66 racconti che sono con il filo conduttore della malattia oncologica del paziente ma sono assolutamente storie di vita, fruibili da parte di tutti. L'idea di questo libro nasce per coincidenza e per un caso che non esiste all'interno della mia biblioteca, una piccola biblioteca privata a uso pubblico dove presentavamo un libro della scrittrice Maria Laura Rosati, c'era anche la dottoressa Rita Chiari che ho rincontrato dopo 20-25 anni che non la vedevo e insieme ci è venuto questo grosso desiderio di creare qualcosa che desse sì la speranza ai pazienti oncologici che ci hanno donato le parole ma che desse anche la speranza ai 66 scrittori che hanno scritto i racconti di coronare un sogno che è quello della scrittura. L'idea di fondo è che la medicina non sia fatta soltanto di farmaci e di terapie in senso stretto ma che la cura del paziente possa avvenire anche attraverso il grande potere del racconto. Tutto questo ha già un nome, medicina narrativa. Medicina narrativa è un sistema di intervento terapeutico accanto alla medicina convenzionale, quindi a quella che facciamo tutti i giorni in ospedale nei nostri ambulatori. L'idea è quella che entrare in relazione col paziente e permettere a questo paziente di raccontare la sua storia migliora la relazione medico-paziente e infine quindi migliora gli esiti anche della cura. La cura è anche prendersi cura. Porre attenzione alla narrazione dei pazienti anche come un modo per riconoscere quella che è l'esperienza della malattia, non curando la parte ma occupandosi del tutto che è la persona. Questo progetto è un po' una sfida nuova della medicina narrativa. La rilancia dal momento che non presenta semplicemente dei racconti di malattia ma anzi ha preso delle parole donate dai pazienti e le ha riscritte secondo una nuova configurazione permettendo ai pazienti di ripensarsi dentro nuove storie, nuove trame. Tutto comincia dunque da un numero ma sei in realtà è anche un verbo ed è qui che il titolo di questo libro dà vita a un interessante e significativo gioco di parole. Sei è un numero ma sei è anche la seconda voce del verbo essere, di un tu che sei. Allora questo numero vorrebbe essere un po' la cifra simbolica e sintetica di quella relazione tra medico e paziente laddove da una parte abbiamo la percezione, la lamentela possiamo dire dei pazienti che spesso e volentieri si sentono percepiti negli occhi del medico come un numero, un numero tra tranti da trattare. Dall'altro punto di vista però proprio i medici sono invitati a fare dell'incontro clinico, un momento di relazione e quindi approcciando il paziente come un tu che sei. Ecco come sei diventa allora il titolo di questo progetto e di fatto il cappello che ci ha accompagnato all'interno di questo percorso. Edito da Felici, sei è facilmente acquistabile online. È ordinabile in tutte le librerie e lo si può ovviamente trovare durante gli eventi di presentazione già in programma. Il primo sabato scorso nell'ex chiesa del gonfalone di Fano. Poi verranno Perugia, Terni e Roma. L'invito all'acquisto è d'obbligo anche perché è per una buona causa. Le storie sono tutte molto diverse tra di loro. Ora abbiamo storie di luce, di speranza, storie di oscurità, di arresto. Storie anche divertenti a tinte sia gialle che noir, possiamo dire. Io ho una mia preferita ma non posso dirla ai lettori perché anzi li invito a comprare questo libro dal momento che significa, acquistandolo, andare a contribuire anche concretamente al reparto di oncologia degli ospedali di Pesaro e Fano dal momento che i diritti d'autore di questo libro sono a questo reparto interamente devoluti. Ci sono parole che spiccano tra questi racconti, tra queste parole donate. Tra le tante la parola speranza, indubbiamente, che è quella di cui forse abbiamo più bisogno di tutti se ci delinea un orizzonte da abitare tutto insieme, tutti insieme anche nel momento in cui ci occupiamo di cura e di incontro con l'altro. E ormai da un paio di settimane è diventato quotidiano il nostro appuntamento illustrativo sulle tante iniziative natalizie sul nostro territorio. Oggi parliamo di quello che avverrà a Pesaro dopo esserci occupati di quanto avverrà dall'8 dicembre in centro. Parliamo anche di quello che avverrà nei quartieri a cominciare dalla novità della Candela della Pace. Una Candela della Pace di 4 metri per 3 in materiale riciclato illuminerà il Natale di Pesaro nel cuore in un tour tra i quartieri partendo da Villa Ceccolini. Una serie di iniziative che avvolgeranno i cittadini scaldandoli con la magia del Natale dai primi giorni di dicembre fino all'Epifania. Sono i quartieri che si mettono a disposizione, lavorano come volontari e creano gli eventi anche durante il periodo natalizio. L'abbiamo visto quest'estate con i tanti eventi durante il periodo estivo. La stessa cosa stanno facendo con il Natale. Quindi abbiamo pensato appunto di presentare alla città tutti gli eventi che loro faranno all'interno dei loro quartieri. In più quest'anno ci sarà una candela, una candela che girerà in tutti i quartieri e una candela che punta alla pace e anche per l'efficientamento energetico perché comunque il risparmio energetico abbiamo appunto, sappiamo, le difficoltà che stanno passando tante famiglie e questo è un segnale che noi vogliamo dare alla città. Gli ringrazio tutti quanti di essere qua presenti oggi ma soprattutto ringrazio per tutto quello che fanno. Molti eventi da quello che mi hanno raccontato verranno fatti coinvolgendo le scuole, coinvolgendo le parrocchie e soprattutto si punta anche al riciclo, al riuso oltre a dei temi che comunque riguardano anche i mercatini di Natale ma anche eventi che riguardano appunto la pace e tutte quelle situazioni o argomenti che ricadono appunto il momento che è il Natale. E concludiamo il nostro telegiornale con lo sport e in particolare con il calcio perché è stata davvero una serata terribile quella di ieri sera per la Vispesero che nel turno infrasettimanale di Serie C allo stadio Benelli ha perso 4-0 col Gubbio secondo in classifica. Umbri che hanno strapazzato una vis in balia dell'avversario con tre gol in un tempo segnati da Morelli, Vasquez e Mbakogu prima del poker a fine gara di Spina. La Vis da un po' nove partite senza vittoria è scivolata a un punto dai play-out e ora è a serio rischio anche la panchina di mister Davide Sassarini. E dalla Vispesero passiamo all'Ital Service di Calcio 5 che mette a segno un importante colpo di mercato rinforzandosi con l'esperto portiere Davide Putano. Il 37enne palermitano arriva a Pesero dopo una carriera in cui ha vinto praticamente tutto dai tre scudetti a ogni genere di trofei. Putano ha iniziato l'attuale stagione con la maglia della Gifema Luparense. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Come di consueto, prima di salutarvi vi ricordiamo gli appuntamenti sul canale 80 a cominciare da quello che arriva subito dopo il Tg per chi ci segue nella prima edizione delle 19.40. Alle 20.10 andiamo a rivivere la magica atmosfera natalizia di E' Natale a Monbaroccio. Sono stati inaugurati gli eventi natalizi di Monbaroccio lo scorso weekend, eventi che vi terranno compagnia anche il 3, 4, 8, 10 e 11 dicembre e potrete vederne un assaggio questa sera alle 20.10. E a seguire alle 21.20 una nuova puntata da non perdere con ci inviti a cena con la nostra Nicoletta Tagliabraccia e il nostro Paolo Paglini che questa sera saranno a cena a Fano a casa di Cora e Matteo Appuntamento. Tutto da gustare, è proprio il caso di dire, questa sera alle 21.20. E poi l'informazione di Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini. Il nostro appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato, come detto, in diretta dalle 7.20. E poi facciamo un salto in avanti a domani sera, giovedì, è la serata di Insieme a Canestro, la serata con gli approfondimenti sulla VL e il basket pesarese in compagnia del nostro Marco Cadendu e in compagnia anche delle vostre interazioni in diretta al numero WhatsApp dedicato 370-366-7210. Ospiti della puntata di domani sera saranno il giocatore della VL Umberto Stazonelli e il responsabile del settore giovanile Giovanni Luminati. Come detto, appuntamento domani alle 21.20, come sempre, in diretta. Ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie. Grazie.